Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui dalle sale del Casino di Sanremo per quanto riguarda il Day 1A dell'Italian Poker Tour. 101 giocatori ancora ai tavoli e appena rientrati dalla pausa cena. Buffet molto abbondante che appesantirà sicuramente non solo i blogger ma anche i giocatori. 300-600, tornando al poker, il livello dei bui, con l'ante invece fermo a 50. Come sapete partivamo in 158, quindi sostanzialmente un terzo dei giocatori presenti ai tavoli hanno abbandonato la gara. Noi ci diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti direttamente dalla sala, come sempre a pokeritaliaweb.org. Ciao a tutti! Grazie! Grazie! Grazie!